L'azienda Murciano, attualmente condotta da Aldo e dal figlio Valentino, opera da tre generazioni nel settore vivaistico viticolo, orientando le proprie scelte verso la qualità del prodotto e l'attenzione per il cliente. La competenza, la professionalità, la dedizione al lavoro hanno permesso all'azienda di diventare una realtà dinamica in forte espansione, aperta alle innovazioni tecnologiche e alle nuove sfide del mercato. L'azienda si trova su Otranto e i mercati predominanti da parte nostra sono tanto i mercati di uva da tavola, sulla zona che riguarda Rutigliano, Noicattaro, un po' su Grottaglia, anche la zona di Castellaneta, Ginosa e via dicendo. Pian piano stiamo cercando di affermarci sul mercato, dando e puntando su una barbatella di qualità eccellente. Abbiamo diversi tipi di porta innesso su cui lavoriamo, ma principalmente siamo su 140, 1103, tutte varietà con un apparato radicale fittonante, perché tendono ad andare verso il basso. Le piante sono il risultato di una selezione genetica e sanitaria molto accurata. L'azienda Murciano infatti sceglie di ogni singola barbatella sia le gemme che il porta in nesto, valutando con estrema cura l'aspetto sanitario, varietale e genetico. Il tutto sotto il controllo di organismi di istituti pubblici che assicurano il buono stato sanitario delle piante madri e dei vivai. La micorizzazione si basa sulla simbiosi tra piante e spora. Le micorizze entrano in contatto con le radici al momento della piantumazione ed iniziano il loro sviluppo dopo circa 4-6 settimane. Quindi si instaura il rapporto simbiotico che dà alla pianta un incremento considerevole di apporto di macro e microelementi, aumentando esponenzialmente le capacità di sviluppo radicale. Inoltre risulta sensibilmente efficace nel limitare gli stress idrici e gli attacchi da diversi parassiti radicali. Si è inoltre notato che a lungo l'incontro delle radici genera una rete di colonie micotiche in grado di scambiare elementi nutritivi tra loro, che si traduce in un andamento all'uniformità vegetativa. La nostra esperienza non si limita ai sistemi di miglioria vegetativa, infatti puntiamo sul recupero di varietà autoctone tradizionali e su nuove varietà come ad esempio la Puglia Rose Seedless. Ovviamente abbiamo in cantiere novità interessanti per le quali a breve sentirete nuovamente parlare di noi. Punto di forza del vivai murciano è la Puglia Rose Seedless, una nuova varietà di uva da tavola senza semi, ottenuta mediante metodi di incrocio naturali, senza ricorso a manipolazioni genetiche da altre varietà preesistenti e non geneticamente modificate. Si tratta della prima varietà di uva da tavola creata in Puglia, sperimentata e acclimatata nei contesti pedoclimatici meridionali, indicata per gli ambienti viticoli mediterranei. Grazie a tutti! Grazie a tutti!